Eccoci qua, siamo ritornati, giovani, ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926, per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Vorrei ringraziare, prima di partire con il video, tutte le persone che sono stati vicini e hanno perso un secondo della loro vita a darci le condoglianze, sapete quello che è successo in questi tre giorni, la grave perdita che abbiamo avuto in famiglia. Allora, ieri sera volevo far uscire un video, ma c'evo talmente tanta rabbia in corpo che non ho nemmeno preferito farlo uscire quel video, perché poi piangevo, facevo, quindi non ho preferito. A parte era un audio, non era nemmeno un video, a dirvi la verità, perché non me la sentivo proprio di mostrarmi in video. Comunque grazie a tutti quanti, è stato bello ricevere l'abbraccio virtuale da tutti voi. Quindi, detto questo, l'ho scritto ieri, da oggi si riparte, ripartiamo, forse ho qualche sorriso in meno in questi giorni, però ripartiamo. Oggi dovrebbero uscire tre video sul canale, ma vediamo un pochino come devo gestire il tutto. Comunque, tralasciando questo, a parte ho visto le statistiche, il canale sta crollando, ma non mi interessa, sono sincero, ripartiremo più forti di prima. Allora, iniziamo, primo video di giornata. Primo video di giornata, si parla di Juan Jesus, ne vogliamo parlare, di questa decisione da parte della FIGC, da parte, non mi ricordo nemmeno, che ha fatto la sentenza, scusatemi. E che a Cerbi praticamente è stato assolto dagli accusi di razzismo nei confronti di Juan Jesus, e Juan Jesus naturalmente ha postato solo un'immagine con il pugno chiuso proprio per la lotta contro il razzismo. Segnale forte di Juan Jesus, e segnale forte anche della SSC Napoli, che ha fatto uscire un lungo comunicato. Sinceramente, sono sincero, sapete, io non l'ho letto il comunicato, perché non giustevo manco con la testa in questi giorni. Però ecco, il pugno di Juan Jesus l'ho visto. Addirittura ieri, Juan Jesus vado a leggere le parole del mattino, è stato il primo ad abbandonare Castelvolturno dopo la sentenza di a Cerbi. In Napoli i compagni del difensore brasiliano decideranno cosa fare durante la partita con l'Atalanta. Indosseranno una maglietta su scritto, io sto con JJ, e poi Juan Jesus indosserà la fascia da capitano. Questa è l'iniziativa da parte dell'SSC Napoli, e poi hanno aggiunto, non faremo più mai una campagna contro il razzismo per il conto della Lega Serie A. Scelta giusta, scelta non giusta, sinceramente, è una grande cazzata, no? Io dico, siamo in Serie A, ci sono 4000 telecamere, se quello si tocca l'unghia del piede si vede, se quello si leva una caccola dal naso lo vediamo, e poi non si va a trovare un video dove Juan Jesus accusa proprio a Cerbi di questa cosa, di aver detto questa parola. Però c'è il video dove a Cerbi chiede scusa, a quel punto, e dice, oh io non sono razzista, scusami, a quel punto significa che tu qualcosa gli hai detto a questo Cristo di Juan Jesus, perché se no, che senso ha a dire? Io sono, non sono razzista. Dai, poi, forse la scena più brutta è stata la moglie ieri sera che ha messo la foto del cin cin alla faccia di tutti quelli che hanno denigrato mio marito, dicendo che era un razzista di qua e di là, bla 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 bla. Io continuo a ribadire, è difficile dare una sentenza senza le prove, naturalmente, e qui secondo me ha sbagliato la SSC Napoli, perché tu, giocatore del Napoli, dovevi dire io l'ho sentito, anche se non l'avevi sentito, perché dove si doveva dare un segnale forte nella popola della giornata contro il razzismo in Serie A contro questa brutta parola. Ragazzi, io ho alcuni dicono, ma il negro non è un insulto razzista negro. Come fate a non dire che il negro non è un insulto razzista, veramente, non ho parole. Anzi, io sapete cosa spero? Che l'oggi o un domani, vostro figlio, vostra figlia, proprio al razzista che c'è, al razzismo che c'è in Italia, vi porti a casa una persona di colore, e voi lo dovrete chiamare Cognato, Cognata. Questa cosa vi deve rimucinare qui nel corpo. E poi vediamo se cambiate idea. Io comunque ve l'ho detto, io non sono nessuno, addirittura molti interisti naturalmente hanno gioito per questa cosa, perché naturalmente dicono, ma vedi, non l'ha detto, Juan Jesus ha fatto solo spettacolo. Io, un cristiano di quasi, guarda, quante anni c'avrà Juan Jesus? 35, 34, non lo so nemmeno quanti anni ha. Trovo assurdo che vada a dire una cosa del genere, no? E dice, Juan Jesus dice le stronzate. Non credo, però, sapete, come si dice, la parola mia contro la parola tua. E quindi, e quindi, vabbè, lasciamo stare. Io l'unica cosa che voglio ribadire è questa cosa. La Serie A aveva, anche il calcio italiano, aveva una sorta di rebus davanti, no? Che facciamo? Diamo un segnale forte alla società? Non alla società Inter, perché tu vai a colpire il singolo giocatore, non alla società Inter. Ecco, chi dice, siete solo interisti, siete delle merde, la marotta league? Nemmeno li sto a sentire, sinceramente, eh. Nemmeno li sto a sentire. Quindi, se mi venite a scrivere qui sotto, la marotta league esiste? No, non me ne fotte, della marotta league esiste, non esiste, non mi interessa. Hanno stravinto il campionato, non mi interessa. Tu vai a colpire il giocatore, non il club Inter. Capite questo, ragazzi, eh? Perché poi, naturalmente, tu vai andavi a colpire il giocatore, non l'Inter. E continuo a ribadirlo, perché molti credevano. Ah, se l'ha fatto il giocatore dell'Inter, allora... No, vai, no. Perché secondo me se succedeva a qualcun altro. Comunque non succedeva niente. Perché proprio in Italia non abbiamo questa cosa di andare contro il razzismo. A ergerci con persone di colore. A rispettare i sentimenti di persone di colore. Perché, why you? È così. Perché se noi vediamo un Cristo che va a chiedere l'emosina di colore, noi glielo diciamo, ma cosa vuoi? Vai a lavorare. Poi si vede l'italiano, ho cinque figli, dammi da mangiare. E poi vanno a fare altro. A noi non ci interessa. Perché è bianco. Cioè, se era quello di colore, è stronzo, da prescindere. Cioè, però ecco. Avevamo una sorta di svincolo. O a insabbiare il tutto e fare come se Acerbi non avesse detto niente. squalificare Acerbi, gli davi tre o quattro giornate e però davi un segnale forte. Non ti dico di dargli dieci giornate, perché naturalmente prove non ce ne sono. Non gli dai dieci giornate. Però dici, ma io, facciamo capire che stiamo facendo una lotta contro il razzismo vera. Non solo propaganda per mettere il fumo negli occhi, ma una lotta contro il razzismo seria fatta per bene in Italia. Non c'è mai stata. Io ripeto, se questa cosa fosse successa in Premier League o da un'altra parola in un altro campionato e quel giocatore lì era squalificato la settimana dopo, nemmeno dopo dieci giorni, in una sentenza, ma si fa il giorno dopo questa sentenza. Quindi non venite a dirmi questo. Ecco, l'Italia ha preferito non dare un segnale forte la Liga Calcio, la Serie A, quello che vi parla. Non ha voluto dare un segnale forte aprendo così una incredibile crepa fra un giocatore di colore e un giocatore bianco. Io la penso così. Poi sapete, io non sono quello che dice ah, non mi interessa nemmeno più, perché sinceramente c'ho da pensare tanti cazzi in destra che non mi hanno fatto nemmeno. quando io gli ero letto zero giornata di squalifica ho alzato le mani e ho detto eh vabbè sarà per la prossima però perde il calcio. Perché se tu devi un segnale forte arrivava anche ai bambini un segnale forte e noi qui dobbiamo ripartire dai giovani che stanno in Italia. Se tu non riparti dai giovani che stanno in Italia e dai un segnale forte anche ai giovani che giocano in terza categoria ai pulcini che quella cosa non si fa. A quel punto il bimbo si immedesimi e dice non si fa è sbagliato è sbagliatissimo perché il calcio ha tanti valori sono nascosti dai soldi però nel calcio ci sono tanti valori ma buh detto questo iscriviti al canale sempre e comunque Forza Napoli dal vostro Neapolis 1926 noi ci vediamo alle ore 18 con un altro video poi non so se uscirà alle 21 un altro video ma vediamo un pochino comunque iscriviti al canale sempre e comunque Forza Napoli e fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate nei commenti ciao a tutti Grazie a tutti